Signore, quest'oggi ci invita il Vangelo a farci vincoli per entrare nella porta spetta del Regno dei Cieli. E allora all'inizio di questa celebrazione affidiamo al Signore tutto ciò che ci comprate per te nel cuore che non ci dà il mente di essere vincoli ai suoi occhi e riconosciamoci bisognosi del suo rendono. Signore che sei venuto a perdonare, a pietà di noi, a pietà di noi, Signore che dà, Signore che dà. Cristo per il cuore in festa e ritorna a te, a pietà di noi, a pietà di noi, Signore che dà. L'amicizia è l'aiuto dei nostri fratelli maggiori, Santa. Santa Maria, Madre di Dio, prega di noi, San Giovanni Battista, prega di noi, San Giuseppe, prega di noi, santi Pietro e Paolo, prega di noi, San Antonio, prega di noi, San Gerardo, prega di noi, San Rocco, prega di noi, santi Angeli di Dio, prega di noi, santi tutti di Dio, prega di noi. Dio Onnipotente ed Eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel cuore in rinocente in Italia. Umilmente ti preghiamo, libera questa bambina dal peccato originale, consacra la Tempia della tua gloria e dimora nello Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore. Amén. Dio, per mezzo dei segni sacramentali, tu operi con l'invisibile potenza e meraviglia della salvezza, e in molti modi, tra i vostri tempi, hai preparato l'acqua, tua creatura di essere segno del battesimo. Fin dalle origini, il tuo spirito si librava sulle acque, perché contenessero in germe la forza di santificare. E anche nel diluvio è prefigurato il battesimo, perché oggi, come allora, l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Poi liberate dalle spiritue i figli di Abramo, facendo ripassare l'unità sia attraverso il mar rosso, perché fossero immagine del futuro popolo di battesati. Discenda in quest'acqua la potenza dello Spirito Santo, perché coloro che in essa riceveranno il battesimo siano sepolti con Cristo nella morte e con cui risolvano la vita mortale. Per Cristo nostro Signore. Amo. Rinunciate al peccato nella libertà dei figli di Dio? Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Rinunciate a Satana. Credete in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo onnico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morir fu sepolto e risuscitato dai morti? La destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Angela, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Angela, io ti battezzo nel nome del Padre, Angela, io ti battezzo nel nome del Padre, Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.